buonasera ben trovati a vivere snella la trasmissione a cura appunto dei centri vivere snella medical qui con me la direttrice lorena marseglia buonasera lorena buonasera insieme a lei monica carboni che la nostra testimonial di questa sera nostro ospite buonasera a lei vivere snella rappresenta dal 1999 il miglior metodo di dimagrimento presente appunto in italia e non solo si avvale di varie metodiche si avvale appunto di quello che lo studio metabolico dei cibi si avvale di un'equipe di professionisti davvero all'avanguardia che vi seguono passo dopo passo nel vostro percorso di dimagrimento sì esatto e la cosa bella e secondo me unica in italia è che non c'è un'altra azienda che ha mai fatto un lavoro così oculato a livello di curriculum cioè il portare i pazienti in trasmissione credo che sia stato il secondo punto strategico che siamo riusciti ad attuare al di là dello studio metabolico dei cibi che lo facciamo solo noi abbiamo fatto il libro stiamo facendo di tutto per farlo conoscere perché la dieta metabolica oramai è riconosciuta molti dottori cominciano a capire che le calorie centrano fino a un certo punto ma poi tutto parte dal tuo intestino quindi è da lì che bisogna iniziare a curarsi però il fatto anche di affidarsi con fiducia perché si vedono su youtube più di 400 interviste è un lavoro che solo vivere snella medica l'ha fatto il fatto che l'ingegnere comunque non voglia allargarsi ma piuttosto vende le macchine l'ingegnere ricordiamo nel proprietario del brand e lo fa proprio perché non vuole nessun modo che succeda mai una sola parola contro un nome così serio che continua a rinvestire quando da noi c'è un cliente perché è cliente barra paziente che per caso fa fatica l'azienda riparte da capo con la cura perché per noi il successo deve essere un dogma il nostro staff quando noi facciamo formazione interna sa che una delle frasi che rimane impressa nella fine della riunione se qualcuno non dimagrisce è colpa nostra quindi ci assumiamo così tanta tanta responsabilità che a volte addirittura davvero io whatsappo alle cinque del mattino al ragazzino che mi scrive che magari vedo che sta male perché su facebook comincia a scrivere cose strane sulla depressione perché vedo che c'è un lavoro che continua soprattutto sui minorenni per anni anche finito il dimagrimento noi siamo davvero coinvolti a livello terapeutico ma soprattutto sul profilo di psicologico sono testimonianze assolutamente autentiche non sono persone che vengono costrette a venire in trasmissione da noi sono persone che nella maggior parte dei casi hanno intrapreso anche altre strade ovvero hanno cercato di risolvere il loro problema con le classiche diete ipocaloriche che nella maggior parte dei casi non risolvono il problema perché molto spesso diminuisce in questo caso quella che è la massa magra e comunque resta quella che invece è la massa grassa. Sì perché quando uno mangia poco è vero che fondamentalmente dimagrisce certo se uno si nutre con questi fantomatici beveroni per un po' perdi peso perché sei all'interno delle 800 barra 1200 calorie allora mi dico fatevi una dieta grammata ed è la stessa cosa il problema è che la gente vuole il miracolo è inutile girarci intorno e poi guarda alla cosa che costa meno ma la salute è un qualche cosa che non ti darà una seconda chance e quindi quando giochiamo con la salute quando ci affidiamo a dei ciarlatani direi delle bestie del dimagrimento che oramai fanno i talk show anziché parlare di una patologia così grave secondo me il fare questo talk show vuol dire fare una pubblicità ingannevole e sbagliata perché per uno che va e racconta che è dimagrito tanta gente non sa quanti da me sono finiti poi successivamente a confidarmi io sono andata in ospedale e ho avuto problemi epilettici un'altra ha avuto attacchi ai reni un'altra ha avuto problemi di fegato grasso e tantissimi confidavano che certo che hanno perso magari nei primi due mesi anche molti chili ma subito dopo li hanno ripresi e quindi andare a giocare col tuo metabolismo dove ogni due giorni ti ingerisci una quantità che è intorno a un chilo un chilo e sette tra carne o pesce e spada poi c'è la mattina che magari ti dà che ne so cipolle a volontà e poi c'è la mattina che ti dà spaghetti a volontà lì queste persone non capiscono soprattutto perché sono bulimiche che non si può affrontare un dimagrimento finto è come prendere delle anfetamine stai giocando con l'insulina giochi con degli come posso dire degli sbalzi ormonali che momentaneamente è certo che scendi dalla bilancia ma è come prendere delle anfetamine stai usando delle droghe che inibiscano la fame ovvio che dimagriscano ma questo è il modo di dimagrire secondo voi? cioè la gente se vuole ogni volta giocare a dadi con la propria salute io prego che vada sempre bene perché invece da me vengono poi le rogne le conseguenze e chi con i beveroni è finito in ospedale chi addirittura ha perso i capelli c'è una ragazza che ha intentato causa con un nome famosissimo dove addirittura prendono come sponsor Ronaldo ha perso tutti i capelli e la risposta poi nella causa è era lei che era soggetta no non era lei che era soggetta è che se tu un organismo lo stressi questo organismo prima o poi se ne va alle cozze e la gente che si affida dei ciarlatani si affida delle persone che si permettono addirittura di offendere la donna dicendo ma non vedi come sei grassa e da lì gli vendono poi la dieta perché poi le donne quando soffrono quando si vedono brutte quando si vedono obese non importa darebbero l'anima al diavolo pur di dimagrire e magari sono donne colte persone laureate però sentono l'amica sentono quello che ha perso 30 chili in due mesi allora anch'io vado spinte da questa motivazione dolorosa psicologica che hanno non sanno che possono davvero rischiare tantissimo predisponendosi al tumore perché se tu mangi un chilo e sette di carne in un giorno te la stai giocando davvero la vita ad adi da noi parlando di noi lo studio metabolico dei cibi nei primi cinque giorni da uno scossone al metabolismo ma dopo c'è e perdi dai due a quattro chili di media ma è uno scossone un'alimentazione che ti disintossica diciamoti dalla 380 da lì c'è un test delle urine poi le nutrizioniste rinseriscono tutto partendo dal porridge insegnandoti il cibo che previene il tumore riequilibrandoti a livello insulinico e magari vanno a scoprire che per te mischiare le verdure è un veleno ricordiamo quel ragazzo che come inserisce le zucchine lesse mi prende 800 grammi e poverino lui con me perse 50 chili e quando glielo dissi rimase a bocca aperta perché effettivamente o c'è uno studio vero, un'equip che ti segue o certe cose mai nella vita riusciresti a scoprirle ecco infatti ci sono degli alimenti che mai noi sospetteremmo ci facciano dimagrire come per esempio tu hai parlato delle zucchine quindi sono dei vegetali chi mai pensa che appunto le zucchine come per esempio la lattuga che contiene la cellulosa ci sono molte persone che quando mangiano lattuga ingrassano il dottor Ramacciotti ne ha fatto quasi una campagna sia su alcuni tipi di lattuga che sul latte ricordo che lui era, oramai non c'è più, il padre della nostra azienda che ringraziando Dio ha lasciato in eredità lo studio metabolico dei cibi però quando qualche paziente si arrabbiava dicendo ma come mi leva il latte il cardiologo ha detto che il latte a me fa bene lui si arrabbiava molto perché diceva o lei si fida di quello che sono studi e studi o io non posso combattere contro l'ignoranza era a volte anche duro, no insomma non dico aggressivo però secco c'erano delle cose che per lui erano delle terie tra cui il latte e ne battagliava moltissimo come diceva il latte va bene per i neonati gli adulti non hanno più gli enzimi per metabolizzarlo tra il bene e il male sappiate che cento volte più il male che non il bene è uguale su alcuni intestini che non hanno un che diciamo gli manca la predisposizione a metabolizzare l'insalata e quindi mancando certi enzimi anziché metabolizzarla questa cellulosa riveste come se creasse una pellicola intorno al lobo della carne di quello che abbiamo mangiato anziché eliminarlo tramite le feci tu praticamente ti fermenta nell'intestino ti gonfi e ovviamente non lo elimini non eliminandolo trattieni acqua e anche l'acqua è peso io contraddico chi mi dice ah ma tanto ho perso i primi chili sono acqua ma certo il 70% del tuo peso è acqua quindi ben venga che tu in una prima fase perdi l'acqua la donna soprattutto trattenendo ritenzione è ovvio che i primi chili è acqua ma cosa c'entra? allora ti rispondo ma se il 70% del tuo peso è acqua di cosa stiamo parlando? è ovvio che una donna quando trattiene o quando mangia una donna o un uomo mangia un alimento e non lo metabolizza bene magari ha uno sbalzo esempio la donna in menopausa ricordo una mia carissima cliente il giorno dopo mi chiamò piangendo perché aveva preso 3 chili in seguito a una pizza è uno sbalzo ormonale ma è sicuramente un trattenimento anche di liquidi è fermentata talmente tanto e nel mezzo della menopausa hai detto la pizza per te non è un veleno è proprio non dimagrirai mai e distruggi quello che hai perso da noi quindi questa dimostrazione di come lo studio metabolico dei cibi sia fondamentale come fondamentale e la nostra ricchezza primaria direi è la salute Vivere Snella Medical ha un'attenzione rigorosissima alle persone che hanno dei problemi di salute è stato il caso purtroppo di Monica che ora invece sta bene guarita ma Monica tu sei alta 1,55 e pesavi 88 chili sì all'incirca 88 chili e cosa è successo? ho avuto delle grossissime patologie in passato per cui sono dovuta ricorrere al centro Vivere Snella perché non potevo più andare avanti perché nonostante che prima ero magrissima poi con la seconda gravidanza ho aumentato a arrivare sino a 88 chili poi ci sono state delle grossissime patologie di cui ha traboccato tutta la situazione e mi sono fidata allora la mia drammatica situazione avendo le mestruazioni molto irregolari e abbondanti e emorragiche tanto lei doveva muoversi con l'asciugamano in casa non potevo più muovermi né per andare a lavorare né per uscire praticamente dovevo vivere dentro una campana di vetro perché non era più possibile io facevo dal bagno, sala, bagno, sala poi una sera sono andata a farmi una bella doccia e lì è crollato il mondo addosso sono andata proprio in fase emorragica e tu poi hai scoperto successivamente purtroppo di avere un vero e proprio problema di salute che fortunatamente si è appunto risolto risolto tutto il problema e oltre al problema di salute tu contemporaneamente hai risolto in parte quello che è il tuo problema di peso esatto con Vivere Snella c'è in quanto tempo? 28,5 kg la distanza di circa di un paio di mesi adesso negativamente un paio di mesi no secondo me adesso sono ferma da un anno però mi sto mantenendo il peso sono arrivata a 59,2 e la cosa bella è che adesso prima gli ho fatto lo shampoo che deve tornarmi mi deve dare ancora un paio di mesi così finiamo questi però dobbiamo precisare anche che sono in pre-menopausa brava anche questo è questo è bello perché va detto ha fatto la cura un anno fa ed è rimasta stabile quindi non è le classiche come posso dire miracoli che poi non permangono ma i nostri sono miracoli che davvero si mantengono nel tempo numero uno numero due sta entrando in pre-menopausa di solito la donna aumenta di peso numero tre lei secondo me il suo corpo a un certo punto non ha retto più questo peso e da lì sicuramente il sistema immunitario quando si debilita poi è come una macchina non gli metti bene l'olio dopo un po' il motore lo bruci ecco l'essere umano alla fine sappiate che è come una macchina Ramacciotti diceva sempre la mattina dobbiamo mettergli la benzina ecco perché voleva che la colazione per noi deve essere da re ma spiegava il principio della macchina uguale all'essere umano se tu gli fai una buona manutenzione certo tocchiamo ferro può succedere l'incidente questo potrà succedere sempre nella vita ma se noi stiamo attenti alla macchina siamo artefici della nostra salute e quindi secondo me lei tutta quella gravissima patologia che ha avuto era anche perché dopo la seconda gravidanza ha cominciato a pasticciare soffrendo di fame nervosa e da lì a un certo punto il suo corpo probabilmente è andato in tilt e per fortuna insomma dimagrendo spesso il corpo si autocura perché è come prendere e togliere da un corpo 30 chili sono 30 chili di infiammazione quindi tutto il sistema ormonale ritorna a lavorare bene Monica siamo in chiusura sei soddisfatta di vivere snella? abbastanza non potevo chiedere di meglio guardi perché per me è stato veramente un incubo ripeto un incubo totale adesso sono rinata sono molto più attiva corro faccio quello io sono una sbirulina ormai l'ho detto tutto ecco molto spesso Lorena i problemi di obesità nascono perché siamo grassi nel cervello e siamo grassi nel cervello è anche il titolo del tuo libro sì e ci tengo molto che insomma non si cominci a leggere perché al di là di ricette light molto piacevoli che intanto possono aiutare chi soffre di bulimia perché perlomeno non le fa sentire in colpa vedi che noi lavoriamo sempre dalla base cerchiamo di curare in tutto i nostri pazienti poi c'è la storia di Luca Cuscito che era alto 1,45 m quindi pensate 10 cm in meno di te ed era arrivato a 120 kg Luca è stato in 6 ospedale gli hanno dato addirittura la pensione di invalidità al 100% sarebbe stato per tutta la vita poverino un ragazzo che quando camminava aveva le cosce bordeaux invece Luca oggi non solo è da 3 anni che mantiene il peso ha perso in totale 45 kg ma togliendo tutto questo grasso è riuscito anche a arrivare quasi a 1,60 m perché Luca se si va nel sito viveresnella.it si vede quindi nel libro c'è la storia di Luca c'è la spiegazione dello studio metabolico dei cibi e c'è davvero insomma il cuore di questa azienda ed è giusto leggerlo prima di scriversi secondo me e lo troviamo online per quanto concerne questa bimba visto che ha detto abbastanza contenta di noi adesso mi deve dire contentissima quando gli levo gli ultimi chiletti fra poi ritornerà da noi fra un paio di mesi la rinvitiamo ci rivediamo perfetta benissimo grazie appunto Monica grazie a Lorena per essere state qui con noi grazie a voi per averci seguito da casa arrivederci alla prossima puntata grazie a voi 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 grazie a voi